Giappogamici Che ho preso grazie a PlayStation Plus E allora siamo giunti esattamente All'isola numero 25 di questa Avventura chissà cosa accadrà quest'oggi Ai famosi ladri fantasy Ma ma come sempre mi consiglio di iscrivervi al canale Di attivare la campanella Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi In questo nuovo appuntamento di Persona 5 Strikers Ok ok ci sono qui Cari giappogici nel Caffè Le Blanc Allora andiamo un po' Raggiungi la prossima città La parliamo con Sojiro Isaminiamo il balcone Spero che ovunque andremo Vi sia un buon caffè Ok qua abbiamo iniziato a girare il Giappone Allora isaminiamo Noi vi vi piace dovremmo dare una bella festa Vabbè poi Sojiro tu stai Isaminare il bagno Spero di andarci prima di sedire sul camper Ok Ma vabbè qua Non c'è nessuno Andiamo all'esterno Oh eccolo qua eccolo qua Oh Sei per partire? Eeeh Ma si ci vediamo presto D'accordo beh ecco Porta questo con te Spero che possa servirvi durante il viaggio E vi prepararne abbastanza per tutti quanti Ok caffè Maiale Cipolla Ecco vabbè Beh ora che vado a ritirare il vostro mezzo Torno subito Tu da un colpo di telefono agli altri E fai li unire tutti qui Non c'è nessuno E ok, avete visto quanto è bello, insomma, la versione anime Oh, eh, gozenkichi, vieni un po' Siamo a 31 luglio, lunedì Ok, ok, qui, fai continuare per la storia Il brugge questo sistema, quindi non è nado Il rupo dei ab잔, le stai insieme Non è un risultato, lo che sguro di abuso Mi tante anche un ruolo di abuso Ma si non mi interessa, la mia stessa Con un pezzo di abuso,精 E tu che dici, potete sapere La mia città è una persona che mi haên E comunque le torna Il notizia dell'amplio Io non la moce E tu condizia ...è quello che si chiama. ...e questo è solo per te. ... ...i prendere il risultato di questo. ... ... ma... ...ilessere il gioco. ...ilessere il gioco. ...ilessere il gioco. ...ilessere il gioco. ...ilessere il gioco in un'ora. ... ...ilessere il gioco. Mamma mia Quindi Qua i lati di fantasma Eh qua i lati di fantasma Non se la vedono Non se la passano proprio bene Secondo la polizia giapponese ovviamente Però vabbè Saremmo a vedere come si avvano le situazioni E ok Vediamo un po' Si passa a martedì 1 agosto Vediamo un po' No Sempre Sempre 31 luglio Ah forse ci sono le tre scimmiette Allora Hanno le zucche Da vino Perché ci sono le zucche da vino Noi scurriamo le fragole Dove lo mettiamo il ramen Ecco 8-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-6-0-6-0-6-0-9-0-1-0-6-0-1-0-1-0-6-0-1-0-6-0-1-0-1-0 ivelli che io mi riguarda ancora un tempo ummm... se è giusto ma... non sento il viaggio stupendo per vedere sotto un'ultima risposta io... ho trovato una cosa un'accatrice ma è un lezzato tre di scale è vero! Quindi, se ci sono i giocatori, i soffi che ci sono i soffi che ci sono i soffi. Deve senti. C'è probabilmente tutto bene. Il mio amore di ai, è venuto. Oh... Cosa è il tuo tuo amore? Mi sono il mio amore di soffi. Ahahahah... Eccolo il mio amore! Ahahha, buona cosa è meglio, se stai insieme, sicuramente lo vedo. Grazie a tutti, Sofia. Grazie a tutti, An. Ma come, ma come stai sempre a fare un'azienda, ma è ok? Mi ha anche un'azienda, ma... Il giorno è ancora un'azienda, ma poterà fare un'azienda, ma poterà fare un'azienda. Eh, mi spiace, no? Anch'io sono spatentato, mi spiace. Sì, ma io sono stati già già arrivati. Sì, ma come si non è mai. Sì, per esempio, la più tempo è più di più. Sono tutti i nostri amati. Non è ok, ma non è più di più. Quindi, ma cosa stai sempre? Perchè, è così. E' quello che vuoi fare? Molto, dovrei fare qualcosa? Allora, dovrei chiedere un posto? Allora, voglio mettere un po' inizio. Allora, facciamo la sera. Ok, lo faccio. C'è un po' bella. C'è un po' bella? Si, è stato un po' bella? è salito ok stiamo vicino a questo fiume non è un po' che accade va e dai di grigliata ok chef stellato dovete cucinare i manicaretti ok tutorial cucinare a ritrovo puoi usare ingredienti per cucinare del cibo questi piatti possono revisionare hp o sp conferire bonus e altro ottimo potrai cucinare più piatti ma a mano che imparerai le ricette puoi ottenerle dai negozi regionali o tramite certi eventi quindi tieni gli occhi aperti e ok allora caffè leblanc e cari delle blanc mmm chic di caffè pregiati vediamo un po' cosa dovrei cucinare cari delle blanc vediamo un po' maiale ci vuole riso quello che ci ha dato su giro vai confermiamo questo la prova del cuoco oh iata vai col trofeo vai col trofeo oh senti il profumino direi che abbiamo un vincitore bene cari delle blanc vai così vai così ok tutti a mangiare bene ecco ecco ma ecco E' questa grande自然ia che si tratta di farlo ancora più bravo! E' vero, non è vero, Inari? L'ultima di Sara è venuto questo... ...Kaito Futaba. Ma... cosa... ...Mu ne... No, non mi sento così... ...Immeno non ci vedo in questo mondo... ...Immeno... Ma sì, dai, tranquillo Ah, oh oh Săngc Oh, твоi m Skemm provide until my eyes Ah, thank you ucker Some are still feeling Cause look,atility when you drink That's it Let's move on to listen to imbeam Mamma mia Di marshmallow all'americana Tutti sono un cuore di buon pranzetto Ottimo Oh Vai così legame livello 9 Bene così nuovo livello Se fatta notte nel frammento E Ok Ah Malo Però Se a se ci sono molte cose che ci sono difficili è molto più tardi, la prossima è la prossima ciò che dovessi cercare l'arrivo a cercare l'arrivo a cercare l'arrivo non è necessario farlo prima di farlo semmai di un uomo, semmai semmai di un uomo, semmai di un uomo, semmai di un uomo ciò che c'è un uomo, non c'è un uomo non, non è difficile, ma Eh grande Data Masamune Mamma mia Ecco ovviamente Data Masamune Lo dico adesso e che ho riferimento anche insomma da un altro videogioco che porto sul canale Che è Samurai Warriors Insomma che vi invito a vedere Allora diamoci una calmata Carta, sasso, forbice Faremo tutto Diamoci una calmata A un'altra domanda Cosa Questa è la domanda Allora soffi Alla prossima. Alla prossima. Sofia, non è possibile così? Non c'è una cosa speciale. C'è solo il risultato. Prima di fare un'automobile in un'automobile in un'automobile, e fare un'automobile da Tate Masamune. Cosa? Cosa? Eccola Allora diamo un'occhiata a Sendai Sì, diamo un'occhiata E vediamo un po', vediamo un po', qua ancora Sendai, ok, siamo arrivati a Sendai, bene Se fatta note, e beh Ci mancherebbe Non c'è Cofia, vuol dire che c'è il gelo? Non è vero. C'è il gelo in questa regione. C'è veramente il gelo. C'è anche il gelo che c'è il gelo. C'è il gelo in questa regione? C'è il gelo in questa regione? C'è vero, prima di cercare. C'è il gelo in questa regione? Ma... ma cosa si fa? C'è il gelo. C'è il gelo in questa regione? C'è il gelo, c'è il gelo che si riuscate. Non è vero. C'è il gelo. C'è il gelo in questa regione di Massamune. C'è il gelo, non è bene? C'è il gelo, non è bene. Cosa ha detto? Non c'è il gelo che c'è la loro attività, c'è il gelo che c'è sempre nella regione. Ma dai... esagerato, Yusuke. Il gelo è una soluzione. Se tu guardi, lo dovete vedere. Ora vedrai. C'è il gelo. C'è il gelo in questa regione? Ma che è così? C'è il gelo in questa regione? Sì. Ma come che spiega a fare a dormire là tutti andati là dentro il camper? Ma che è? E anche qui c'è un po' di pesca, quindi potremmo parlare un po' di spazio. Perchè, puoi andare a vedere questa statua di Masamune. Ok, andiamo! Il Masamune sta chiedendo io! Quindi questo è il parco di Monte Aoba Mi piace Un po' vicino carino e ricercato C'è persino un santuario Vediamo un po' il registro Allora ok D'accordo andiamo a dare un'occhiata Alla strada di Te Masamuno Dovrebbe essere qui vicino Andiamo un po' per di qua Ok Eccola qua Sono commosso Davvero maestoso Troppo figo Dai troppo figo Ah Sassuga Sendai no show to I RRD Non c'è nessuno Non c'è nessuno No c'è nessuno Eh già ma infatti C'è sulla statua Ma che cavolo Non c'è nessuno Non c'è nessuno No 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 c'è nessuno O, oi O, oi Siamo liceali, siamo universitari Tiacerebbe saperlo, eh Siamo... Tiacerebbe saperlo, eh Fammo così, fammo Mamma mia, si è incollata questa Ah, la Toh Ah, cavolo La Toh University, quella famosa di Capitan Tsubasa, no? Mamma mia Che ricordi? Cuma, orsi Che omaggio? Caramella Ryuji è d'accordo Ok, prendersene va Bene Mi seguo lo scrittore La lingua di V era fantastica Ok, legame A livello 10 Bene così E vediamo un po', vediamo un po' che accadate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La carne è una pasta che si tratta di un po' di carne, e la 2 pezzi è una cosa che si tratta. È solo tu, Zuno. Ma... è stato un piatto davvero molto buon. Sofia, buon job! È un piatto di prima di prima. Questa è la cosa che si tratta di Sofia. Che... che cosa è? Eh, che accade? Ragazzo orgoglioso Eh, credo di sia lo scrittore famoso Oh no Quello che ti dice L'ho cosa Che significa che ci fosse un mestiere Che cosa si dice Quindi, ce ne dimenticate Cosa si dice Ehm, qua O se, un'akish? Eh, ah, ho vissuto Ah, tipo Di stasciare posto il reso Ve la mano Che non ho vissuto A me è il progetto non è un uomo questo non è vero non è vero è vero è vero ah non è non ci siamo è vero questo è vero ... Allora basta così Allontanati da lei Alla larga dico sul serio Allontanati da lei E che fai di incazzi? Mettimi alla prova Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Dobbiamo indagare meglio E ok Anche se non abbiamo ancora Una prova che lui sia monarca Non c'è dubbio che sia un tipo losco Torniamo al camp Dobbiamo scogliare un modo per accogliere fronzio su di lui Poi partiremo da lì E ok ragazzi Allora bene così Bene così Ma un altro episiodone Di questo Persona 5 Strikers Abbiamo preso anche un trofeo Quindi direi alla grande così Quest'oggi Ottimo così E ok Cari giapponici Eccoci qui Nella scena di titoli Di questo Persona 5 Strikers Allora come sempre Ovviamente Questo episodio termina qui Sperando che vi sia piaciuto Vi lasciate il più like possibile E commentate Controli dei cosmi Lungo e largo Seguite i miei vari social Ci vedete come sempre Ad essere pagina Facebook Twitter, Instagram Canale e Telegram Mi raccomando Seguite anche lì Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non appena visto un video Un'uscita quotidiana E infine ricordate anche il mio blog Su WordPress L'indirizzo Giappogamer.home.blog Dal vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matane I prossimi episodi Grazie a tutti